Federalismo Frattura propone il Molise, il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Graziano Del Rio è alla ricerca di regioni pilota che possano candidarsi al federalismo. Il governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura ha fatto sapere che appoggerà questa possibilità. Il TR mai prodotto marchi contraffatti, non è tardata ad arrivare la risposta del patron Antonio Bianchi che ha smentito ogni accusa e merito all'indagine scattata dalla Procura della Repubblica di Zernia dopo il sequestro di un camion carico di capi di abbigliamento. Si tratta di una vera e propria congiura, ha tuonato Bianchi. Prestito 5 per 1, distratti 2 milioni di euro sul piede di guerra agli impresari molisani beneficiari del fondo destinato allo sviluppo dell'imprenditoria locale che hanno visto dirottare tale somma per tamponare l'emergenza del comparto avicolo regionale. Calcio, poker del Termoli contro il Basto Marina, ottima prestazione dei giallorossi nel test amichevole contro gli abruzzesi. Buono l'affiatamento tra i nuovi arrivi, mentre gli Zernia e il Boiano continuano a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Il Consiglio regionale indetto per questa mattina è stato aggiornato alle ore 18. Ma adesso ci colleghiamo in diretta con la collega Vania Cristinziano. Vania, mi senti? Sì, Tiziana, buongiorno ai telespettatori di Molise TV. Ci troviamo di fronte al Consiglio regionale, Consiglio che è stato riaggiornato questa sera alle ore 18 per consentire ai rappresentanti delle istituzioni politiche di presenziare l'ultimo saluto che andrà al senatore Lombardi, scomparso proprio questa notte. A tal proposito abbiamo chiesto un parere al presidente del Consiglio, Vincenzo Nero, e a lui abbiamo anche chiesto se entro questa serata si conosceranno i nomi dei rappresentanti dei più importanti enti subregionali, nomi che certo hanno scosso l'equilibrio all'interno della maggioranza. Ma vediamo il contributo. Abbiamo appreso nella nottata che è scomparso il senatore Lombardi, che è stata una delle figure autorevole di rappresentanza del nostro Molise nel Parlamento italiano. Io credo che era doveroso, su una richiesta fatta da Laura, aver rinviato, aver aggiornato il Consiglio alle ore 18, proprio perché credo che sia giusto e doveroso partecipare alla scomparsa di una grande intelligenza del nostro Molise. Un consiglio dalle tematiche davvero molto delicate, perché c'è la nomina oggi per gli enti subregionali. Come si sta muovendo una maggioranza in continua riunione? Immagino ci saranno confronti diretti per cercare di trovare la persona più giusta, più competente, soprattutto per rivestire un ruolo tanto importante. Ma guardi, alcune prerogative ormai non sono più di scelta del lavoro consigliare, ma sono direttamente in capo al Presidente, le nomine delle presidenze per applicazione di leggi di settore, così anche il nuovo ricepimento del spending review ha portato i consigli di amministrazione delle società a una riduzione delle rappresentanze esterne, cioè su tre componenti, faccio esempio, su tre componenti del Cile del Consiglio di Amministrazione, due devono essere tecnici interni, uno solo deve essere di rappresentanze esterne, quindi già questo ha fatto delle delimitazioni abbastanza consistenti. Poi c'è l'applicazione del Decreto Legge 39, così anche del DPR 95, che ha stabilito, ha dato delle disposizioni in termini di inconferibilità, incantidabilità e di incompatibilità. è prima il soggetto che potrebbe aver manifestato la sua volontà, quindi ha risposto agli avvisi pubblici che sono stati fatti, ma anche coloro che non avessero risposto agli avvisi pubblici dovevano rendere, prima che l'Aula si appreste a fare qualche indicazione, aver reso loro una dichiarazione dalla quale si attesta che loro posseggono i requisiti stabiliti dall'applicazione di queste nuove norme statali che sono subentrate. Quindi noi procederemo in questa direzione. Ci sono già nomi specifici nel senso alle 18, comunque a seguire, sapremo, conosceremo i nomi? Li conoscerete nel momento in cui ci sarà l'espressione dell'Aula e ricordo che l'espressione è con voto segreto per cui appena verranno fuori per ogni singolo organismo che si andrà a rinnovare saprete sicuramente i nomi. Fino a quel momento io non credo che qualcuno possa permettersi di dire il nome di Tizio e di Caio, non ci sono nomi. Bene, per il momento è tutto Tiziana, restituisco la linea allo studio. Grazie Vania, proseguiamo con il nostro telegiornale. Dunque, politica molisana in lutto, è morto all'età di 85 anni il senatore Lello Lombardi, esponente storico della DC. Lombardi è stato eletto per quattro legislatori a partire dal 1983 ed è stato sottosegretario alle finanze tra il 1983 e il 1986 con il governo di Bettino Craxi. Numerosi gli incarichi di partito ricoperti in seguito sia nelle commissioni parlamentari sia nelle istituzioni locali molisane. Nato a Merano, in provincia di Bolzano, il 22 settembre 1928 ha trascorso tutta la vita a Isernia dove è deceduto nella giornata di ieri. Grande il cordoglio espresso dal mondo politico e istituzionale, nonché dalla società civile. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Graziano Del Rio è alla ricerca di regioni pilota che possano candidarsi al federalismo. Il governatore del Molise, Paolo Di Laura Frattura, ha fatto sapere che appoggerà totalmente questa possibilità per fare della regione il modello della sperimentazione delle buone pratiche. Sentiamo. Il Molise ci sta a questa scommessa, passando dalle parole ai fatti. Questo è il monito del presidente della regione, Paolo Di Laura Frattura, per candidare il Molise a questa scommessa. Il ministro Del Rio proporrà a breve a tre regioni di sperimentare il nuovo modello amministrativo, il cosiddetto federalismo. Frattura ha spiegato che questa sarebbe un'ottima occasione per far diventare il nostro territorio il modello, la regione della sperimentazione delle buone pratiche. A ragione dei tagli imposti dalla Spending Review, anche il Molise potrebbe indossare un nuovo abito, andando così a dimostrare ai cittadini scoraggiati dal sistema politica che qualcosa di buono ancora si può fare. Queste le parole del governatore che mai, come stavolta, si è detto convinto a supportare la novità. Taglio delle province. Senza dubbio questo sarebbe il primo passo verso una rivisitazione amministrativa per ridare credibilità e non solo geografica alla regione, che stenta a decolare sotto i duri colpi di una crisi economica che investe ormai tutti i settori professionali. Un altro passo verso il ridimensionamento della spesa pubblica sarebbe anche quello di sfoltire le circa 4.000 società intermedie che spesso svolgono funzioni pressoché analoghe a quelle svolte dalla regione stessa. Sull'utilità di sperimentare il modello del federalismo è del tutto contrario il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, ammettendo che un taglio alle province il governo lo ha già adottato con il taglio delle risorse che impedisce di lavorare per il bene comune. Anche per l'attuazione del federalismo si prevedono reazioni a catena, speriamo produttive stavolta. Il deputato Danilo Leva, responsabile giustizia del PD, ha proposto di abolire l'ergastolo. Inmediato l'appoggio di Italo Di Sabato, ex consigliere regionale di rifondazione comunista, è ora esponente dell'osservatorio sulla repressione. L'esperienza insegna che la gravità della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, ha commentato Di Sabato. Essa è invece assicurata dal restringimento delle aree di impunità, dall'efficacia del sistema giudiziario, nonché dalla rapidità del processo. E ancora, lo Stato dovrebbe ricorrere maggiormente alle misure alternative, perché più efficaci del carcere. Non è tardata ad arrivare la risposta del patron dell'ITR, Antonio Bianchi, il quale ha smentito ogni accusa, dichiarando che l'azienda tessile non ha mai prodotto marchi contraffatti. Piuttosto, ha dichiarato il numero uno di Pettoranello del Molise, si tratta di una vera e propria congiura contro la fabbrica. Sentiamo. Antonio Bianchi è decisamente convinto di voler restare al timone dell'ITR di Pettoranello del Molise. La risposta all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Sernia e al blitz della Guardia di Finanza non si è fatta attendere molto. Ricordiamo che l'indagine è scattata a seguito di un controllo di un camion sulla piana di Venafro all'inizio del mese di luglio, cui la Procura di Sernia ha fatto seguire subito una minuziosa indagine. Il numero uno dell'azienda tessile Pettoranello ha ribadito che al momento sotto sequestro ci sono soltanto pochi capi prodotti con regolari licenza, oltretutto dalla precedente amministrazione, che dovevano essere ricondizionati da una struttura di Sesto San Giovanni in Lombardia. A breve sarà chiesto al Tribunale di Monza il dissequestro della merce. Antonio Bianchi si è detto convinto dell'innocenza, ammettendo che contro l'azienda tessile si sia imbattuta a una vera e propria tempesta, che certo non fa del bene alla serenità dei lavoratori che questa settimana saranno in ferie, imbalia però della conclusione delle indagini per cui il numero uno di Pettoranello si è detto ottimista. Per infondere sicurezza ai suoi dipendenti, Antonio Bianchi ha fatto poi trapelare alla stampa un importante accordo raggiunto con il proprietario della Maison Ferré, Mister Sancari. L'attività dell'azienda tessile dunque sarà strettamente legata alla casa del famoso stilista italiano e per questo si spera che gli impiegati tessili possano passare un buon ferragosto prima di rientrare al lavoro, non nascondendo però dubbi e timori circa il loro futuro occupazionale. E passiamo ora alla cronaca, altro sangue sulle strade molisane. Nel primo pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni, Stefano Matarocchia, originario di Campolieto, è stato coinvolto drammaticamente in un incidente mortale sulla Fossa Altina. L'uomo alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo definito contro il guardrail. Per lui non c'è stato nulla da fare, sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia, non si esclude l'ipotesi di un malore. Il 55enne era un commerciante ed era di ritorno da Trivento dove aveva partecipato al mercato domenicale. Distratti 2 milioni di euro dal fondo per il prestito denominato 5 per 1 destinato agli imprenditori molisani che si impegnavano ad aumentare il capitale sociale della propria azienda. Tale somma sarebbe stata impegnata dalla regione molise per tamponare l'emergenza vissuta dal comparto avicolo. Ma gli imprenditori beneficiari del fondo si dicono pronti a portare il caso in procura. Sentiamo. Potrebbe finire in procura il caso dei 2 milioni di euro distratti dal fondo per il prestito denominato 5 per 1 e utilizzati per tamponare le emergenze del comparto avicolo molisano. Nell'ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 la regione molise unitamente agli istituti di credito convenzionati con la finanziaria regionale ha agevolato l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che intendevano aumentare il proprio capitale sociale. L'obiettivo del progetto era quello di contribuire alla copertura delle esigenze finanziarie mirate alla realizzazione di programmi di investimento e al miglioramento della struttura e dell'organizzazione aziendale in un periodo di assoluta difficoltà nel reperire risorse per operare ed investire. Gli istituti di credito e la Fimmolise si impegnavano a valutare le condizioni per la concessione di prestiti pari al doppio del capitale versato per un ammontare massimo di 200 mila euro. Sul piede di guerra alcuni degli imprenditori che da un anno e mezzo attendono la liquidazione del contributo della Fimmolise tanto da avere incaricato i propri avvocati a procedere legalmente portando il caso in procura. Ammontava a 10 milioni di euro la somma destinata al rilancio dell'imprenditoria molisana a quanti avessero deciso di aumentare il capitale sociale della propria azienda. Un progetto presentato nel 2012 dall'ex assessore alle attività produttive Michele Scasserra e dall'ex governatore Iorio. L'iter burocratico si è rivelato poi più lungo del previsto costringendo gli imprenditori beneficiari del prestito a vivere condizioni di difficoltà in quanto da parte loro lo sforzo di mettere i soldi nel capitale sociale era stato portato a termine. Ciò che ancora si attende è la restante parte del prestito derivante da Fimmolise. In merito al ritardo sull'erogazione del fondo, Massimiliano Scarabeo, assessore alle attività produttive, ha precisato che restano da sbloccare 2 milioni di euro che fino al 2012 sono stati utilizzati, su un mandato della stessa amministrazione Iorio, per urgenti necessità legate alla crisi del settore avicolo regionale. Dunque, il dirottamento di tale somma sarebbe avvenuto in coincidenza del periodo in cui l'ex Solagritel rischiava il distacco dell'energia elettrica. Ma per appurare come siano stati utilizzati realmente quei 2 milioni di euro, gli imprenditori si dicono pronti a rivolgersi alla magistratura penale. Ci spostiamo ora a Isernia. È stata confermata la protesta dei 40 dipendenti della Securitas Molise SRL, l'azienda di vigilanza di Isernia, che dal 15 agosto si troveranno senza lavoro. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore regionale a lavoro Michele Petraroia, i dipendenti dell'azienda continueranno la loro manifestazione di protesta davanti alla prefettura della città. Il comune di Isernia ha presentato alla stampa il bando per l'assegnazione di 29 nuovi alloggi universitari. Gli appartamenti sono stati ricavati nell'ex mattatoio nella parte sud della città. Sentiamo Olivia Garofalo. Sul sito web del comune di Isernia sarà pubblicato a breve un bando per l'assegnazione degli alloggi della casa dello studente, situati nella parte sud della città di Isernia. 29 saranno gli studenti che potranno soffrire di questi appartamenti. I protagonisti di questa iniziativa sono gli studenti, ha spiegato il sindaco di Isernia Luigi Brasiello. Tutto questo rappresenta molto per la città. Sarà il collegamento tra la parte alta del capoluogo con il centro storico di Isernia. Maria Teresa D'Achille, vice sindaco del comune di Isernia, ha dato alcune informazioni in merito. Il bando per l'assegnazione delle case agli studenti presso la struttura di via Sant'Ippolito sarà pubblicato sul bollettino regionale del Molise il 16 agosto. Entro il 16 settembre gli studenti, i docenti e tutti i dipendenti delle università che sono sul territorio molisano possono farne richiesta e in base ai requisiti che hanno saranno ammessi in una grodatoria e di 29 fra studenti, docenti o anche dipendenti dell'università saranno ammessi e fruiranno di questi alloggi con una legge regionale che regolamenta questo tipo di alloggi. La casa è la casa comunale che sta chiusa già da qualche anno, a settembre viene riaperta e quindi noi vogliamo fare una vera politica dell'accoglienza universitaria a cominciare dai servizi, quindi l'università in questo caso gli alloggi ma seguiranno anche ulteriori servizi, un ampliamento dei servizi per quanto riguarda la ristorazione, chiederemo anche da altri ristoratori di rispondere all'ESU, quindi di dichiararsi disponibili per il servizio di ristorazione e così tanti altri servizi per il tempo libero, la cultura, i trasporti in collaborazione con istituzioni e università. L'ingraziamento da parte degli studenti presenti all'incontro affinché il comune si attivi tempestivamente e inoltre per sostenere le spese eccessive nell'acquisto dei libri di testo, gli studenti hanno ideato il mercatino del libro usato, allestito all'interno dei locali dell'ex lavatoio dove chiunque fosse interessato può acquistare libri a prezzi bassi. E stiamo in argomento come abbiamo sentito dal servizio Torna, il mercatino del libro usato, un'iniziativa promossa dall'Unione degli studenti del Molise che si svolgerà a Campobasso in Piazza Municipio dal 12 al 18 agosto e dal 19 agosto al 9 settembre a Piazzetta Palombo. La vendita sarà effettuata al 50% del prezzo di copertina offrendo così una soluzione al disagio delle famiglie e degli studenti costretti ogni autunno a fare i conti con il caro libri. Passiamo adesso allo sport, novità per il Campobasso calcio, l'imprenditore Falcione torna in pista, si dichiara pronto a far parte della nuova società ma non da attore principale. Sono sceso in campo, ha precisato Falcione, dopo le tante sollecitazioni ricevute perché sono disposto ad aiutare il Campobasso in presenza di un tavolo allargato anche se siamo costretti a ripartire da categorie inferiori. Falcione ha poi continuato dicendo il risposto con piacere alla chiamata del notaio Giordano che ha tutte le carte per assolvere alla figura di presidente onorario o effettivo perché è un professionista che può coinvolgere altri imprenditori nel progetto. Poker inamichevole per il termoli, calcio contro il vasto marina, sentiamo quali sono le sensazioni del direttore generale Andrea Di Siena per questa nuova stagione alle porte. Appena tre giorni fa c'è stata la presentazione del termoli, una grande folla tra tifosi addetti ai lavori si è stretta intorno alla squadra, grandi le ambizioni di questa stagione. I sentimenti principali emersi sono quelli del grande affetto e del rinnovato entusiasmo, forse anche merito del duro e oscuro lavoro dei dirigenti giallorossi. Proprio per questo motivo abbiamo intercettato il direttore generale termolese. Di Siena è sicuramente una figura di rilievo del termoli calcio, visto la sua trentennale esperienza in società dove ha ricoperto praticamente tutti i ruoli. E il braccio destro del presidente ha costruito in questi anni un'organizzazione che punta a ridare lustro e ambizione alla città di Termoli. Sentiamolo sulle ambizioni di questa stagione. Speriamo di ripetere il campionato l'anno scorso, un campionato competitivo, affascinante e magari speriamo una conclusione migliore. Una squadra che chiaramente deve ancora lavorare perché guai se fossimo in forma in questo momento. Però è una squadra che io sarei definita molto equilibrata, dotata tecnicamente, è una squadra che in effetti potrà fare molto bene. Le molissane insieme è meglio. Derby, passione sportiva, qualche battutina perché fa parte del gioco, è bene che siamo tutti insieme. Il girone, lo dicevo qualche minuto fa a un suo collega, lo definirei equilibrato. Quando c'è equilibrio può succedere di tutto. Intanto ieri il Termoli si è reso protagonista di un ottimo amichevole contro il vasto marina, società di categoria inferiore che si è difesa come ha potuto. Un proficco test per entrambe. Per il Termoli un piccolo passo in avanti dopo la prestazione negativa con il Bisceglie. Diversi gli esperimenti di Trillini, ex allenatore della Provasto, che ha provato la rosa davanti alla difesa al posto di un opaco testa, da segnalare un ottimo affiatamento tra Genti e Miani e tra Guglielmi e Fazio. La partita si è conclusa con il risultato di 4-1 per i giallorossi, sono andati in gol Guglielmo e De Tommaso nel primo tempo, Fusaro e Genti nella ripresa. Insomma, un precampionato tra alti e bassi, ma che fa bene sperare. In questo inizio stagione numerose le trattative di calciomercato in Serie D, sentiamo le ultime novità di giornata. Il Boiano si sta muovendo molto sul mercato nelle ultime ore, sono giunte diverse firme di calciatori che saranno a disposizione di Mister Bilinghieri. Dopo l'acquisto del difensore Molare ne arriva un altro per rafforzare il pacchetto difensivo, si tratta di Antonio Monticelli, classe 89, ex Venafro, Isola Liri e Neapolis. A centrocampo arriverà Norbert Lazio Bartic, classe 82, proveniente da Luco Canistro, giocatore d'utile e di esperienza. Non c'è ancora invece l'ufficialità per il trasferimento di Marco Cranariola, classe 90, ex Albi e Celano. Per il discorso Under chiuse numerose trattative. Sono già a disposizione l'attaccante Albi Cucci, proveniente dalla Serie B belga, Gabriele Spina, ex Civitavecchia, mentre per la porta arriva il 94 Luca Pelusa o proveniente dalla Calvanese. Infine ci sono il 93 Luciano Lupi e il 94 Antonio Capuano. Da considerarsi tramontate le trattative per Matteo Monti e per il difensore Fuschi. Per quanto riguarda Lisernia, sembra allontanarsi la firma del difensore Marco Cagliazza, classe 87, il quale è rientrato ieri in campagna per motivi personali, anche se Sibiglia conferma ancora l'interesse per il giocatore. Del resto è proprio la difesa il reparto da rinforzare, con un elemento di esperienza per dare solidarietà ed equilibrio alla squadra. Sembrano invece già in ordine gli altri reparti, in particolare attacco e centrocampo, sono parsi già in grande spolvero e danno a parere degli addetti ai lavori ampi margini di crescita. Questo era il nostro ultimo servizio e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per martedì 13 agosto. Giornata nel complesso soleggiata, salvo blandi addensamenti nuvolosi in transito ma con schiarite prevalenti. Ventilazione per lo più a regime di brezza con mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in ulteriore rialzo, eccole nel dettaglio. Campobasso minima 19, massima 29 gradi. Isernia minima 16, massima 28. Termoli minima 24, massima 31 gradi. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215.